Ben ritrovati, ben ritrovati qua sono di rossa nera e mattino Milan post partita anche se in realtà di partita insomma ce n'è stata veramente poco eh il post partita di Milan Chelsea il giorno dopo la mattina dopo quello che è successo ieri sera a San Siro con la sconfitta del Milan per due a zero da parte del Chelsea o direi più da parte del dottor Sibert Beatrice Sarti ciao Bea Ciao ciao a tutti buongiorno per quanto sia un buon giorno eh sì eh sì eh sì eh siamo arrivati credo alla fine della del non della corsa europea del Milan assolutamente il Milan è molto ancora in corsa anzi è ampiamente tutto nella portata del Milan però sarebbe anche l'ora di dire basta di dire basta di dire di mettere un punto su quello che sta accadendo al Milan negli ultimi quattro anni di competizione europea forse anche di più eh che dove ogni volta che ha qualcosa contro il Milan rischia davvero di perdere partite qualificazioni accessi all'Europa insomma eh non sono nemmeno piccoli torni sono quattro anni ci pensavo ieri sera quando mentre uscivo mentre tu racconti io faccio scorrere un po' le immagini e e pensavo ma se questa cosa qui fosse successa in un ottavo di finale che poi voglio dire le partite del girone già valgono tanto no in ottica qualificazione ma se una cosa del genere fosse successa non so nel ritorno di un ottavo ma è completamente follia follia guarda eh il Milan ieri ha deciso di non commentare probabilmente perché sia ancora all'interno di una competizione e quindi probabilmente anche quello il motivo che per il quale non si è deciso nemmeno di dire una parola su quello che è successo ieri lasciando ai giocatori eh il compito di dire la loro eh però io penso e spero che il Milan possa andare avanti agli ottavi c'ha la possibilità per farlo anche se ovviamente la cosa sia un pochino complicata però nel caso malaugurato in cui il Milan dovesse uscire qualcosa bisognerà nel caso dire perché non non si può ogni volta compromettere il cammino europeo altrimenti se no è semplicemente un modo per partecipo incamero i soldi della partecipazione poi esco a un bancomat e finisì è una sorta di di grande bancomat le faccio girare un po' questo tanto per dire è il tra virgolette rigore di Welbeck nella Europa League l'ultima quella di Rino Gattuso poi c'è l'altra Europa League quella di mister Stefano Pioli finita contro il Manchester United grazie anche a questo gol non dato per un tocco di coscia di Frenchesi annullato per visionare il tocco di mano questo è pesante vado ancora avanti con una delle tante di Shakir in Milan atletico dell'anno scorso che sono costate arrivare praticamente con pochissimi punti alle sfide col porto anche se influenzate da errore arbitrali e chiudiamo con ieri con questo mano che si appoggia sulla spalla di Mount poi non c'è più Mount va in estirata tira calcia Tata Rosano para fine della questione guarda io credo che l'ho detto anche ieri sera nel post partita se il livello della Champions League è considerato così alto no quante volte ci sentiamo dire e va bene Champions League è un'altra cosa il livello è altissimo per competere in Champions devi investire in maniera importante sempre questa questo appellativo il livello altissimo mi viene da dire livello degli arbitri molto molto basso perché questi sono errori veramente grossolani errori che proprio non competono a un arbitro a un arbitro di alto livello a proposito di questo vi faccio vedere quello che poi è uscito oggi sui giornali questa è gazzetta dello sport lo vedete lì sotto tolgo il banner così si vede ancora meglio potrebbe andare bene anche quello sopra in realtà ovvero vergogniamoci però è riferito a le parole del presidente Agnelli sulla Juve lì in basso in taglio basso cioè che furto di gazzetta dello sport non vi posso mettere in onda tutto sport e corriere dello sport perché hanno deciso di non scrivere nulla dell'accaduto in prima pagina vabbè è l'Italia quindi la conosciamo insomma il cortile degli altri è sempre poco importante quando ti riguarda te scandalo e clamoroso la decisione se non riguarda te non si dice nemmeno si dice solamente nei trafiletti legati alla moviola questa è gazzetta dello sport una decisione senza senso sterling graziato perché tanti tra l'altro delle legmo viole insistono anche sul fallo di sterling considerato giallo dall'arbitro e anche dal VAR visto che lì il VAR in teoria poteva intervenire a quel punto ma non da non da da questi due soggetti che insomma hanno deciso di non dare sterling poi era anche cioè ad un certo punto di gara era anche ammonito quindi poteva benissimo finire anche lui sotto la doccia e invece no no ma è proprio sull'intervento poteva essere questo rigore eccessivo e quindi non c'è il rossatomori voto 4 per il corriere dello sport per tutto sport voto 5 generosi generosi tutto sport con cyber beh altrimenti sono abituati in italia lo consideriamo un rigorino da altre parti avrebbero sorvolato visto che mount conclude lui punisce avendo fischiato il resto conseguente con il rossatomori gol ed espulsione indirizzano così una partita fin lì aperta per molosetto con i giocatori chiude con 10 cartellini sventolati troppi quindi il 5 a che cosa è legato cosa avrebbe fatto per non prendere 4 di buono 10 tra l'altro 10 cartellini sventolati cioè se una persona non ha visto la gara no e va a leggere il tabellino pensa che non so ci siano state botte da orbi giocatori infortunati perché 10 cartellini significa proprio una partita che hai perso totalmente il controllo e che è diventata cattivissima cosa che non mi pare sia stata sì in pratica sarebbe stata quasi una partita da da rissa il milan credo che sei cartellini anzi sette con il rosatomori non li prende praticamente mai ma tant'è questa è stata la partita di ieri come detto però almeno deve mettersela via perché purtroppo alla fine il tabellino rimane quello e rimane anche la classifica della Champions League bisogna beh a ricaricarsi subito qualche giocatore è uscito anzitempo per riposare un po' mi viene in mente giro mi viene in mente benassero qualcuno a noi invece se li ha fatti tutti i 90 quasi 100 minuti perché sono stati anche 5 minuti di recupero nel nel primo tempo penso ad esempio a tonali e quindi bisognerà ricaricarsi per bene in vista di domenica contro il verona anche se io posso metterci entrambe le mani sul fuoco per me il milan a verona va dentro e fa il diavolo a 4 in tutti i sensi. Beh il milan ci ha insegnato in questi anni che dopo una brutta partita questa tra l'altro è ancora più brutta perché non è di pesa da una nostra brutta prestazione reagisce sempre molto bene quindi speriamo che sia così anche domenica. A proposito invece di domenica e di giocatori che giocheranno ha riposato poco in realtà visto che ha fatto soltanto gli ultimi dieci minuti fuori Raffaeleao ci sono novità sul rinnovo più che altro legate alle parole di Paolo Maldini che ha detto che hanno già provato a rinnovare hanno volevano rinnovare già sei mesi fa un anno e mezzo fa mi sembra di ricordare parole già sentite e ha detto di voler fare tutto quanto prima del mondiale ora il mondiale parte tra un paio di settimane tra un mesetto circa oggi è il 12 ottobre un grosso modo i giocatori vanno via a metà del mese di novembre quindi abbiamo un mesetto circa per per sistemare la questione come vedete ci sono anche novità riguardanti la questione giudiziaria che riguarda Raffaeleao vi vado a leggere direttamente da record così ci facciamo un piccolo punto della situazione caso Raffaeleao la corte quella del TAS quindi siamo in Svizzera in questo momento respinge l'appello dell'IL e conferma la co solidarietà nel risarcimento che nel mentre tra l'altro sarebbe arrivata fino a 20 milioni di euro perché tra spese e compagnia dai 16 a 5 il record con interessi di mora li fa arrivare già a 20 milioni ve lo leggo velocemente perché sono poche righe ma almeno danno l'idea esatta di quello che sta accadendo il TAS ha respinto il ricorso presentato dall'IL volto a impugnare la decisione del TAS stesso basato proprio su solo svizzero che a febbraio aveva condannato lo stem il l'IL alla co solidarietà con Raffaeleao quindi il l'IL si era appellato al Tribunale federale svizzero su quello che aveva deciso il CAS dicendo no noi non saremo co solidari con leao con il pagamento di questa multa di questo risarcimento allo sporting e invece il Tribunale federale svizzero dovete pagare insieme alleao questa cifra tra l'altro condannando anche il l'IL alle spese procedurali considerando infondata la richiesta. Ti leggo le altre due questioni il l'IL si ricorda che ha preso il primo agosto del 2018 leao l'importante indennizzo in questo momento è stata fissata a serie 5 ma a questo punto come dicevo con l'interesse di Mora sopra già i 20 nonostante la delibera lo sporting è ancora in attesa della FIFA Dispute Resolution Chamber che determinerà l'importo definitivo che dovrà essere pagato dal calciatore dopo che già il CAS aveva rinviato la causa proprio a loro. A maggio tra l'altro il Tribunale di Milano ha confermato il pignoramento del 20% dello stipendio dell'attaccante c'è circa 300 mila euro al mese rispingendo il ricorso dei suoi legali poi insomma il record dice che il Milan sarebbe disposto a aiutare il calciatore da quanto dicono in Italia per così avere la garanzia del suo rinnovo cosa che invece a meno a parole non è stato detto dal Milan e da Paolo Mallini. Magari sai magari una parte io credo che tutto tutto il Milan ma credo a parte le squadre inglesi che in questo momento o il Paris Saint Germain hanno il potere di comprare qualsiasi cosa credo che ogni squadra in questo momento faccia fatica a pagare così 20 milioni quindi magari può aiutare. Esatto magari può in parte aiutare. Io non credo che il Milan non lo aiuti per niente. Cioè credo che il Milan sappia che questa cosa esiste. Eh però magari non non so non so in quale parte pagheranno. Eh diciamo che se si volesse diciamo così legare Raffaele A o il Milan eh ancora di più ci si tappa un po' il naso. Al momento della firma si dà il più classico dei bonus al la firma. Sì esatto. Lo puoi passare per quello. Siamo tutti felici e contenti. Magari un po' meno le casse del Milan. Mai quantomeno un calciatore rinnovato per più anni che lo abbiamo visto anche ieri. Ogni tanto quando ha la palla Chelsea non Chelsea, James non James può superare chiunque. Tra l'altro ieri è uscito in lacrime Raffa. Ha fatto anche tenerezza. Beh io ti chiedo 20 secondi finali su quello che è successo ieri con Tiago Silva a San Siro. Poi chiudiamo. Beh è stato molto bello il saluto riservato alle formazioni perché ovviamente mentre lo speaker inglese stava enunciando le formazioni fischi e poi quando è arrivato Tiago applausi. Molto bello anche il finale quando lui è andato a salutare la curva del Milan e hanno cantato il coro di una volta Tiago Silva alle alle. Quindi molto molto bello. Tra l'altro anche la moglie innamorata di Milano se volete dare un occhio su Instagram. Addirittura ieri ha preso la metropolitana perché è innamorata del tifo italiano. Quindi tutto molto molto bello. Non so se volete a fine ferie di Tiago vi aspettiamo a Milano a questo punto quindi. Va bene Bea grazie a presto. Grazie a voi e a dopo. Tra pochi minuti c'è chiama Milan poi alle 13 il lunch alle 16 il talk alle 19 filo rosso nero. È un classico merito di post partita che insomma commenterà una partita che in pratica quasi non c'è stata. Ciao a tutti.